Aaaaaaah! Quellozza, fatti sentire! Presidente, ci viene a dare la mano a tutti quanti. I ragazzi e i ragazzi alla prima squadra del settore sono qui, Matteo Pestina e Nicolo Martino. I ragazzi e i ragazzi alla prima squadra del settore sono qui, Matteo Pestino e il candidato Claudio Grosso! I bologna Giancini, Paolo Castelli! Alex Giovanni, Stefano Chimini, i difessori Marco Altileghi, Gabriele Frantino, Giacomo Garibetti, Cristiano Moretti, Boste Zullo, i genitori amici Vico Bianchi, Amelio Cagliani, Roberto Galdino, Marco Morau, Luca Santorucito, Paolo Baradussa, Alessio Vita, gli attaccanti del mondo calcio Mattia Pinotto, Giovanni Lalaia, Umberto Mielo, Riccardo Rabazzi, Giovanni Terraghi, e gli ultimi votanti acquisti da parte del presidente del mondo calcio, Miles Emerson, Ale Fischer, Beccus Bell, Davide Sittaglia, Andrea Gasparroni, ottississimo! Eccola qua, la squadra del mondo calcio! Sorride e stringe le mani infanzibente! Sorride e stringe le mani infanzibente! Buoniny Fraffimento! Buon�� vitt gel Guadных Beo potete sentire questa squadra sono tutte le notte di morte speranze! Otre che coincedete e vogli proprietari le notte daughter! Direi venuti a tutti. Davide! Nuestro inizio eviteremo! 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 Nuestro inizio eviteremo!